Ciao ragazzi, oggi 22 aprile, sono le 6 di sera e il mio pensiero va a voi clienti che mi mancate, ci mancate tantissimo, parlo a tutto, a nome di tutto lo staff da Massimo Aldefuggi e spero potervi rivedere presto, potervi ripreparare tanti nostri buoni panini, dai lampredotto, salsiccia alla griglia, porchetta cotta andegna, insomma speriamo che questo brutto periodo finisca per tutti, speriamo davvero e forza e coraggio, teniamo duro che noi italiani quando il gioco si fa duro, iniziamo a giocare, quindi in cura a chi ci vuole male, va bene? Soprattutto a questo virus di merda, scusate le parole, forza raga!